Oggi la presentazione della candidata a sindaco di Mazzara del Vallo, Benedetta Corrao, sostenuta da Forza Italia. Udc diventerà bellissima e dalla lista civica Benedetta Sindaco. Come è nata questa avventura e come sta affrontando questa campagna elettorale? Questa avventura è nata inaspettatamente, nel senso che non stavo pensando proprio a questo nella mia vita. Però l'ho accolta con grande gioia, l'ho accolta con grande partecipazione, con grande interesse. La sto affrontando con la serenità che mi contraddistingue per la persona che sono, una serenità che metto in tutte le cose della mia vita, nel mio lavoro, nei miei rapporti interpersonali, nella mia vita. E quindi devo dire discretamente bene, perché tra l'altro andando fra la gente trovo molto riscontro, trovo molti in bocca al lupo, a volte anche spontanei. E questo mi fa capire che già Benedetta Sindaco è entrata nelle famiglie. Quali sono i progetti principali del suo programma? Allora, il programma, come tutti i programmi elettorali, sapete benissimo che essendo un periodo piuttosto lungo, di cinque anni, è alquanto complesso e articolato. E quindi l'abbiamo fatto insieme con tutta la coalizione e ha toccato i punti più salienti che la città ovviamente si aspetta di vedere risolti. Però, diciamo, tra le cose, proprio per citarne alcune, abbiamo il problema del portocanale, abbiamo il problema dell'ospedale per alcuni aspetti, abbiamo il problema del collegamento con le isole minori, Pantelleria, Famignana, perché comunque questo è un discorso che dal punto di vista turistico è veramente importante da gestire immediatamente e poi anche una maggiore cura per le periferie della città, per la città stessa, insomma un po' di tutto. Il centro-destra è accanto a lei? Sì, la mia candidatura è nata, come dice qualcuno, dopo tanto dibattito dialettico ed è vero, non c'è niente di male a confrontarsi su una cosa quando questa cosa è le sorti della propria città. Però nel momento in cui sono arrivati a questa condivisione di candidatura, da quel momento poi la coalizione cammina insieme e già oggi siamo appunto all'espressione di tutta la coalizione al completo. Quali sono i progetti e i programmi per Mazzara del Vallo in futuro? Noi pensiamo che il futuro della nostra città comunque dipenda dal mare, comunque è collegato al mare, quindi bisognerà ridare credibilità e potenzialità alla marineria, non è più la marineria di 50 anni fa, ma comunque alla pesca, dall'agra alimentare deve partire sicuramente un progetto economico. E poi lì agganciare il concetto del turismo come produzione di economia, come produzione di reddito, come produzione di posti di lavoro. E quindi agganciamo un ragionamento che deve diventare certezza rispetto alle tante promesse inattese. L'impegno del sindaco Corrao è che entro la fine dell'anno noi dragheremo il portocanale con quel progetto emergenziale, perché bisogna essere chiari, non è il progetto dell'escavazione, ma è un progetto che è collegato ai fondi del distesso idrogeologico e ci consentirà intanto di rispondere al momento emergenziale. Dopodiché bisogna fare ripartire subito, immediatamente, i collegamenti con le isole minori, mi riferisco a Mazzara, Pantelleria e Lampedusa, e poi dobbiamo avere davvero una molta attenzione, una forte attenzione, per quanto riguarda le problematiche legate alla Bellaiello di Mazzara. Abbiamo le idee chiare, chiediamo davvero ai mazzaresi una riflessione vera, forte, perché in campagna elettorale tutti prenderanno nell'impegno, ed è giusto che sia così, è la campagna elettorale. Il cittadino però deve verificare la possibilità che questi impegni possano diventare realtà. Con Forza Italia, con l'Udcico diventerà bellissima, tutto ciò si può verificare, perché è un progetto politico collaudato, abbiamo vinto le regionali, abbiamo vinto le nazionali, e sono sicuro che anche a Mazzara riusciremo a raggiungere l'obiettivo e che alla fine Benedetta sarà il sindaco della città di Mazzara del Vallo. Sono 15 anni che Mazzara di fatto non è amministrata, c'è un deficit politico enorme, non c'è più classe dirigente, ci candidiamo a guidare la città sotto l'aspetto politico-amministrativo con un progetto certo vincente, che ha le idee chiare, perché parte dalla vera conoscenza approfondita delle problematiche della città, ma lo possiamo fare con una progettualità politica che oggi è al governo della regione siciliana. Oggi presentate la vostra candidata a sindaco Benedetta Corrao, come è nata questa scelta? Questa scelta è stata frutto di un ampio dibattito, di un dibattito in tempo che è partecipato e alla fine abbiamo trovato la sintesi sulla figura della professoressa Corrao, che è sicuramente una persona di garanzia e di qualità, che è giunta a questa esperienza in maniera consapevole, quindi siamo assolutamente fiduciosi che ci porterà lontano. Tanti candidati in questa campagna elettorale, sarà sicuramente un'avventura difficile? Sarà un'avventura difficile, un'avventura entusiasmante, io mi auguro che questa sia una campagna elettorale che si svolga all'insegna della lealtà, della trasparenza, della correttezza e della sobrietà e che temi Carapiera si facciano su temi importanti. Le polemiche di altro tipo lasciamole a casa. Quali progetti per la città di Mazzara del Vallo? I progetti sono tanti e sono diversi. Noi abbiamo come primo obiettivo quello di creare un modello di sviluppo economico-sociale che possa far decollare questa città che ha pagato il prezzo di dieci anni di isolamento. Quindi metteremo al centro la famiglia, le imprese e il lavoro. Accanto a me il membro della direzione regionale diventerà bellissimo, il dottore Clemenza. Come vede questa campagna elettorale? Una bella competizione direi. Ritengo che abbiamo la migliore coalizione per fare una sintesi al progetto che vuole essere l'alternativa dopo dieci anni di stallo per la città di Mazzara del Vallo. La città è ferma, è ferma nell'economia, non si parla più da tanto tempo di lavoro. I giovani non riescono a individuare un interlocutore adatto per poter appunto collocarsi nel mondo del lavoro. È un tema centrale per noi. Punteremo sui settori nevragici dell'economia della città come gli investimenti per la creazione delle nuove infrastrutture, per la riqualificazione del portocanale sicuramente che rappresenta uno dei volani più importanti della città e anche per quanto riguarda la riqualificazione della città partendo dalle periferie perché riteniamo che anche in periferia c'è un'importante società che ha bisogno di essere considerata. Avete puntato tutto su Benedetta Corrao, come mai questa scelta? Benedetta Corrao è una persona abbastanza qualificata, insegna diritto del turismo all'istrotecnico commerciale, ha fatto una breve esperienza politica, direi che è ben supportata da uomini qualificati della coalizione con tanti anni di esperienza e quindi possiamo fornire tutto il supporto necessario affinché lei sia la persona più adatta ad amministrare questa città. Sono tanti i candidati sindaco qui a Mazzara del Vallo per queste amministrative, sicuramente sarà una battaglia difficile? Sono tutte brave persone, il nostro candidato noi speriamo sia quello vincente, vincente perché è brava, perché è dinamica, perché abbiamo costruito una coalizione politica e perché questa coalizione politica è la differenza rispetto a tutto il resto che ha il sapore di un miscuglio confuso e senza alcuna programmazione vera. Io invece sono convinto che la politica è il motore per la crescita di un territorio dell'intero paese e noi siamo fortemente convinti che questa coalizione può raggiungere l'obiettivo di eleggere la nostra corrao sindaco di Mazzara. Faccio un esempio ancora più chiaro. Il paese, per ora parlo dell'Italia, è governato da forze politiche che sono contrapposte e siamo diventati ridicoli, ridicoli agli occhi del mondo. C'è un vicepremier che una mattina dice una cosa e l'altro vicepremier che la stessa mattina dice la cosa diametralmente opposta. Il mondo chiaramente ride di noi e dunque bisogna capire e riflettere come far diventare la politica un valore aggiunto. Questa coalizione a Mazzara del Vallo è il valore aggiunto che può rappresentare nelle elezioni amministrative. L'Udc accanto alla corrao, come nasce la scelta in questa campagna elettorale? L'Udc è consapevole del ruolo di governo che esprime non solo a livello regionale ma anche nei territori. E in questo, nell'ambito del perimetro della coalizione che si esprime a livello regionale, non poteva che essere insieme ai partiti che si riconoscono la candidatura della professoressa Corrao. Una candidatura che è forte, che è radicata sul territorio e che soprattutto esprime competenze e preparazione. Su questo ci siamo misurati, questo cercavamo e crediamo di avere offerto alla città di Mazzara sicuramente la migliore delle scelte possibili per far sì che Mazzara torni a recuperare quel ruolo che nell'ambito della politica provinciale ma anche regionale merita, perché non merita di essere governata solamente di passaggio, ma con una serietà, una compostezza, una responsabilità, uno spirito di servizio che secondo me solo Benedetta Corrao può offrire a questa città ed è per questo che l'abbiamo scelta.